Se fai Natale non fai Capodanno e viceversa, per cui ormai le nostre famiglie sono abituate a vederci a corrente alternata e questo è il nostro lavoro, lo facciamo all'entusiasmo di sempre, ci piace farlo e a volte il Natale si sta sul pezzo a garantire i nostri cittadini. Saranno giornate di lavoro questi giorni di festa a cavallo del Natale, del Capodanno per gli operatori del 118 Aretino. Saranno vicini alla popolazione come sempre e ci sarà un rinforzo dal punto di vista sia degli operatori che dei mezzi di soccorso. Il Covid si sta un po' attenuando ma sta arrivando una bella influenza, il picco deve essere proprio nelle festività. Siamo pronti perché in qualche modo raddoppiamo anche alcuni servizi, qualche ambulanza in più, qualche sanitario in più in servizio perché prevediamo un bel picco e già abbiamo avuto delle avvisaglie nei fronti soccorsi e comunque hanno avuto un aumento di accessi intorno al 20-30% e questa cosa qua probabilmente durerà per tutte le festività. Qual è il consiglio che si sente di dare alla popolazione nel comporre comunque il numero dell'emergenza durante questi giorni così particolari? Ma io prima ancora di comporre il numero dell'emergenza della popolazione vaccinatevi per favore, i vaccini non sono uno scherzo. Quello del Covid ci hanno salvato tante vite e quello dell'influenza ci salva tanto. Gli anni precedenti non abbiamo avuto un'influenza perché portavamo la mascherina. Quindi chi comunque ha sintomi eccetera mette la mascherina, chi comunque sta in posti sopra affollati eccetera mette la mascherina, chi è fragile mette la mascherina. Non è un gioco mettere o non mettere la mascherina, vuol dire proteggere se stessi e gli altri. Che cosa si sente di dire ai suoi ragazzi che saranno al lavoro? Una cosa semplice, grazie, che è la cosa più semplice del mondo ma soprattutto una pacca sulle spalle perché ogni tanto fa bene anche di dire che sono bravi, che sono competenti, che sono empatici, che comunque riescono a dare il meglio di sé sempre e comunque.